La scalonetta non è un autobus, no, è una macchina tremenda, disegnata per vincere. La scalonetta non ha i cavalli nel motore, ma leoni. Un motore affidabilissimo, il treno anteriore non si rompe mai, l'accelerazione la migliore nel mondo e 5 stelle in sicurezza. La scalonetta non ha né 5 né 6 cavalli, ma molti, molti di più, 10, 12 e quando accelera ti uccide. Che macchina, mamma mia, che macchina. È la migliore combinazione tra stile ed affidabilità. E poi la scalonetta non ti lascia mai a piedi, ovunque tu vada. È fatta con il cuore, con passione, come se fosse fatta a mano e porta la storia nel suo scuro. Tu la scalonetta la vedi arrivare, la distingui da lontano, ne senti il suono, il ruggito. Poi senti come tutto trema, la gente si alza, viene la scalonetta. E quasi senza che tu te ne accorgi, attraversa l'aria e tu resti lì, immobile, come un panno, senza più niente da fare. Che macchina. Dio mio, che macchina. Una bella macchina per farci un giro. O no? Che macchina. Che macchina. Che macchina. Che macchina. Che macchina. Che macchina. Grazie a tutti